Ciao ragazzi, vi ricordate il video che avevo fatto, penso tre mesi fa, quando con mia nonna avevo seminato quelle ghiande? Beh ecco, quelle ghiande ora sono nate. Hanno fatto delle grandi radici e stanno fuoriscendo le gemme. Comunque quel video ho notato che vi è piaciuto moltissimo, infatti sono contento. Se non l'avete ancora visto quel video, beh, mi raccomando, andatelo a guardare. Sono andato a dividerle perché erano troppo ammassate e le vado a mettere in dei vasi. Ma questo perché? Perché fino a che non raggiungono una dimensione adeguata non vado a piantarle. Capite bene anche voi che se vado a seminarle in terra diretta non crescono. Passing with my head again You had your heart set on me But these feels they come and go And they come so easily Tell me what it is About you that I can't forget But you're breaking down the walls again Just to set me free Per i vasi ho scelto della terra che avevo già in giardino e insieme ho messo un po' di torba La torba non è altro che del fertilizzante Solo che questo fertilizzante da solo non va bene perché è troppo acido E quindi per le semine non è tanto conveniente Era mio fratello Comunque questa settimana doveva uscire un video su come coltivare il fagiolo Ma il maltempo non mi ha permesso di seminarlo Quindi lo farò più avanti Inoltre volevo seminare a giugno le cicorie perché è il periodo adatto Solo che mi ero confuso un attimo i tempi e volevo seminarle ora Mi raccomando non sbagliate i tempi di semina Ah comunque già che ci sei iscriviti al canale e metti un mi piace Mi farebbe molto felice Questo ultimo periodo ho ricevuto tantissimi commenti pubblici Positivi da voi e molto supporto Io sono veramente felicissimo Continuate così e siete fantastici Comunque io ora vi saluto perché devo andare Devo andare a studiare Auguratemi buona fortuna Grazie mille della visione Io vi saluto Ciao Ciao